Ciao a tutte ragazze, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. A loro! Da come avrete sicuramente già letto dal titolo, questo video è un video di riordino cucina e soggiorno. Scusatemi per le condizioni, so che non mi vedete mai in questa maniera, però vi devo far vedere la vita reale, io non sto tutti i giorni così ecco. Questa è la mia cucina, ovviamente non sarà per sempre la mia cucina, perché non so se sapete, ma questa è una casa in affitto, e se c'è qualcosa di orribile, per cortesia, non guardate tanto, un domani nella mia casa non sarà così, spero. Comunque, direi di cominciare. Allora ragazze, da adesso sentirete soltanto la mia voce registrata e guarderete quello che faccio. Allora, in questo momento stavo sparecchiando la tavola e versando il residuo di pasta in un unico piatto. Poi ho preso il cestino dell'organico e ho versato il residuo che avevo messo prima in un unico piatto all'interno del cestino, perché era pasta avanzata e la butto. Poi dopo ho preso il cestino e l'ho messo sotto il lavandino, così in modo da sistemare, e ho tolto le ultime cose dal ripiano della cucina, sistemando anche pentole e vari aggeggi nel lavello. Qui invece ho preso questo pentolone grande, dove io solitamente faccio la salsa, e stavo buttando il contenuto della pentola, perché era avanzata e non la tengo, magari andava male. Poi, allora, qui stavo invece sistemando la roba pulita nei vari ripiani. Questa è una cosa che faccio subito dopo aver fatto i piatti, anche se lì l'avevo fatto per farvi vedere come li sistemavo. Adesso invece, dopo aver tolto i piatti puliti dal lavello, sono andata a prendere la spugnetta e ho messo al di sopra il sapone per piatti e ho cominciato a pulire i piatti di pranzo. Io solitamente questo lo faccio sempre dopo mangiato, perché preferisco tenere sempre il lavello pulito. Allora, non vi ho fatto vedere tutto il momento del lavaggio piatti, semplicemente perché poi durava tanto, quindi in questa parte vedrete direttamente la roba pulita sul lavello. Qui, siccome avevo già finito di lavare i piatti, sono andata a svuotare la spugnetta dagli eccessi di sapone e poi ho asciugato le mani continuando ad asciugare i piatti. Qui stavo asciugando il bimbi e non so se sapete, ma il bimbi si lava in modo spezzato, quindi ho asciugato prima il contenitore, poi la frusta che va all'interno e dopo il sotto del bimbi che chiude il boccale con la frusta, che sarebbe questo che ho preso adesso. Ok, fatto questo ho chiuso il bimbi e l'ho messo al suo posto. Poi ho continuato ad asciugare i coperchi delle pentole, la pentola, i piatti e bla bla bla. Io non so se si vedrà dopo dal video, penso di sì, solitamente i piatti non li asciugo mai, li metto direttamente sopra a scolare e li lascio asciugare lì dentro, non mi crea problema questo. Qui stavo asciugando la spatolina del bimbi e dopo aver fatto quello ho poggiato le pentole nel proprio contenitore. Dopo ho poggiato i piatti, come vi ho detto non li asciugo, ho messo anche su lo scolapasta e poi ho sistemato le posate nel cassetto. Infine mi era rimasta questa piccola padella che poggio sempre nel ripiano con le pentole e il piatto sopra. Poi sono andata a prendere lo sgrassatore e ho pulito la superficie del lavandino e la superficie del piano cottura. Io solitamente prima metto un po' di prodotto sopra e poi vado a sciacquare la spugna con acqua calda o la pezza in questo caso e vado a passarla su. Solitamente se lo trovo più sporco passo prima la spugnetta con acqua calda e poi dopo passo la spugnetta questa qui che vedrete in mano, il panno, quello viola. In questo caso siccome il piano cottura l'ho già fatto la sera prima, era abbastanza pulito quindi ho passato soltanto lo sgrassatore con il panno viola. Poi sono andata a pulire anche il laterale dove ci sono i pulsanti di accensione e come al solito io siccome avevo fatto la salsa da poco e la salsa schizza sempre e ho pulito anche i mattoncini di fronte il piano cottura. Ho spruzzato ancora un po' di sgrassatore nel lavandino perché avevo aperto l'acqua non mi sono accorta che aprendo l'acqua ho tolto un po' di sgrassatore dalla superficie del lavandino poi l'ho spruzzato anche nei mattoncini di fronte e sono andata a pulire tutto prima con la spugnetta e poi dopo col panno viola. Infine quando avevo finito ho tolto lo sgrassatore riposto sotto il lavandino e sono andata a passare bene l'acqua sulla superficie del lavandino per togliere il residuo di sgrassatore. Grazie a tutti Fatto questo e pulito tutto il pezzo di sopra sono andata a togliere i sacchetti dell'organico da sotto il lavello e li ho messi fuori per poi scenderli sotto casa dove ci sono i secchioni quelli grandi dell'organico. Dopo aver tolto i sacchetti dell'organico sono andata a prendere il secchiello questo che ho comprato all'IKEA e l'ho messo nel lavello per pulirlo. A volte non so se sapete ma l'organico fa un po' di sughetto diciamo ecco e era rimasto al di sotto del contenitore quindi sono andata a passare lo sgrassatore, la spugnetta per pulirlo bene e poi il panno pulito. Dopo aver fatto questo invece sono andata ad asciugare il contenitore dell'organico da come vedrete adesso e lo riposto di nuovo sotto il lavello mettendo anche un sacchetto per l'organico. Infine ho risciacquato la spugnetta questa viola, anzi gialla e lo riposto nel contenitore che tengo sotto il lavello. Poi sono andata a pulire con il solito panno viola il bimbi perché solitamente essendo bianco si sporca e si vede troppo. Poi sono andata a risciacquare il panno viola e l'ho lasciato sul lavandino e dopo mi sono dedicata alla tavola. Ho tolto queste bottiglie dalla tavola mettendole in frigo e ho tolto anche il latte che era rimasto sul frigo. Poi ho sbattuto la tovaglia da tavola per terra, tanto dopo avrei passato comunque l'aspirapolvere scusatemi anche per il cartoncino che c'è dietro la tavola ma mia socia l'aveva mandato un pacco da poco quindi dovevo svuotarlo. Poi sono andata a passare lo sgrassatore sulla superficie del tavolo con il solito panno viola che uso solo ed esclusivamente per la cucina e infine dopo averlo asciugato ho messo il copritavola bianco perlato. Infine ho passato l'aspirapolvere, qui la stavo già passando nel corridoio diciamo, non vi ho fatto vedere mentre passavo l'aspirapolvere in cucina ma comunque l'ho fatto. Allora ragazzi io ho appena finito di sistemare la cucina e nulla come al solito ci vediamo in un prossimo video, se il video vi è piaciuto lasciate like, se non è così pazienza, se non siete ancora iscritti al canale vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina. Mi raccomando per rimanere aggiornati su quando pubblico video bla 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 seguitemi sui social che vi lascio qui, instagram e tiktok. Vi mando un grosso bacio, ciao!